Vincitore del secondo premio per la sezione secondo ciclo, istituto di istruzione superiore Polo 3 Fano di Fano Pesaro Urbino. Titolo dell'elaborato, fiume, tribuna di aspirazioni e di ideali della mobilitazione bellica. Sono state le classi quarte e quinte del Polo 3 di Fano ad essere stati premiati al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'ambito della non edizione del concorso nazionale intitolato 10 febbraio, fiume, ladriatico orientale. Identità, culture, autonomia e nuovi confini nel panorama europeo alla fine della Prima Guerra Mondiale. Gli studenti, assieme ai docenti, hanno realizzato dei prodotti grafici e un saggio redatto dalla studentessa Alessia Tonelli volto a promuovere l'educazione europea e la cittadinanza attiva e sollecitare l'approfondimento della storia italiana attraverso una conoscenza dei rapporti storici, geografici e culturali nell'area dell'Adriatico costituendo un ottimo spunto per riflettere su scenari non molto diversi dal mondo odierno. Gli elaborati sono stati apprezzati dalla commissione tecnica costituita da membri delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati unitamente a rappresentanti del MIUR conferendo il secondo premio del concorso ai giovani studenti fanesi. Il progetto ovviamente è solo uno strumento, è il momento culminante di un'attività didattica che sarebbe comunque stata svolta in classe perché ovviamente la questione fiumana e il giorno del ricordo è una cosa che ovviamente avremmo celebrato comunque. Poi abbiamo colto al volo la possibilità di partecipare a questo progetto ministeriale e quello che ci ha sorpreso non è solo aver vinto ma aver vinto in tutte e due le sezioni, cioè non solo in quella grafica ma anche quella che prevedeva la stesura di un saggio. Il saggio, ispirato ad approfondire e comprendere l'identità e la vocazione di Fiume, una città multiculturale, luogo di sperimentazione politica, è stato fonte anche per i manifesti grafici ideati e prodotti dagli studenti che attraverso l'arte della comunicazione hanno tradotto le parole in immagini. Da quale spunto è stato realizzato questo manifesto? Dalla figura di D'Annunzio come poeta e attivista e come possiamo vedere dal manifesto elaborato da Anna Maria Lakicevic si può vedere due primi piano di D'Annunzio, uno in veste politica e uno in veste poetica per poter avere una coesione per l'impresa di Fiume. Comunque per noi essere al Quirinale è stato un grande evento ed eravamo molto molto emozionati. Martedì prossimo gli studenti su invito della Presidenza del Consiglio regionale presenzieranno alla cerimonia del ricordo che si terrà ad Ancona per illustrare i loro lavori.